Grande partecipazione ieri sera al San Luca per la presentazione ufficiale alla Camera Unitominale del Collegio Battipaglia Eboli dell'Avvocato Romano Ciccone per tutti l'Ello. Con lui il capolista al Senato Vincenzo Fasano. Abbiamo parlato con i candidati anche di rifiuti, obiettivi e rilancio del territorio, oltre a ricucire con gli esclusi nelle liste di Forza Italia. È un territorio che in verità è stato abbandonato tantissimo tempo, quindi oggi dobbiamo dare una svolta a questo territorio e veramente io ci credo. Faccio la politica per passione, in questo ci sto mettendo tantissima passione, ci metterò tantissima passione e farò di tutto per far risollevare questo territorio. Gli obiettivi primari per il rilancio di questa terra? Io credo che l'obiettivo primario in assoluto in Italia e soprattutto per questa terra è la sicurezza. La sicurezza credo che non ce lo dobbiamo dimenticare, è un problema serio sentito per la salute dei nostri figli, per l'incolumità delle nostre famiglie, delle nostre donne, veramente dei nostri figli. Quindi è un obiettivo primario della sicurezza. Poi ovviamente il lavoro, la disoccupazione che ormai è dilagante, è un continuo licenziamento in tutte le aziende. E poi senza per ultimo la sburocarizzazione di quest'Italia. Quest'Italia va sburocarizzata perché non è possibile che un'azienda, anche un istituto di estetica, debba fare 118 pratiche per poter aprire. Siamo all'assurdo. Su questo territorio incide molto la polemica sui rifiuti e l'impegno concreto di Forza Italia. Sui rifiuti è un problema serio, non è possibile installare qui i rifiuti. Assolutamente, è una terra che è votata all'agricoltura, c'è l'interporto, c'è il polo agroalimentare che deve essere istituito qui. Quindi pensare di mettere i rifiuti su questa terra di aziende, di bufaleine, è assurdo. Non so chi decide queste cose, chi ha messo. So che i cittadini battipagliesi hanno fatto le barricate, ma dobbiamo fare di più di barricate. Ma a Roma devono arrivare le barricate. Mi rendo conto delle ragioni degli esclusi. O di quelli che non hanno avuto la possibilità di essere competitor in questa campagna elettorale. Ricordo a me stesso, e ricordo a chi mi sente, che è successo anche a me. Io da parlamentare uscendo non fu inserito nella lista. Dopo tre giorni, forse tre no, ma dopo sette giorni ero sul palco con quelli che mi avevano escluso dalla lista a fare campagna elettorale. La volta scorsa ero l'ultimo della lista, ero il numero 17 della lista. Quindi in una posizione praticamente... Grazie mille.